La scoperta dell'induzione elettromagnetica e poi l'intuizione di Maxwell e della corrente di spostamento permettono finalmente di scrivere le quattro equazioni di Maxwell nella forma completa. Le prime due equazioni di Maxwell riguardano il campo elettrico e la terza e la quarta riguardano il campo induzione magnetica, come è scritto anche qua, campo elettrico la prima colonna, campo induzione magnetica la seconda. Lette in orizzontale invece, la prima riga, cioè la prima e la terza equazione di Maxwell, riguardano i flussi, i flussi attraverso superfici chiuse, il flusso del campo elettrico e il flusso del campo induzione magnetica. La seconda riga invece, cioè la seconda e quarta equazione di Maxwell, riguardano le circuitazioni del campo elettrico e del campo induzione magnetica. Prima di scoprire il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, la circuitazione del campo elettrico era pari a zero. E infatti tempo fa dicemmo che c'era da aggiungere un termine, altrimenti con la circuitazione del campo elettrico uguale a zero, quell'equazione era valida soltanto nel caso stazionario. Adesso invece sappiamo che nel caso non stazionario, cioè quando c'è una variazione, e in questo caso del flusso magnetico, allora la circuitazione del campo elettrico non è zero, ma è la legge di fare dei Neumann, Herri e Lenz. Allo stesso modo, quando abbiamo studiato tempo fa la legge di Ampere, cioè il teorema della circuitazione di Ampere che finisce qui, avevamo detto che questa equazione, la circuitazione di B, era incompleta perché c'era da aggiungere ancora un termine, che è appunto il termine introdotto da Maxwell. L'equazione incompleta di Ampere è valida solo nel caso di campi stazionari. In tal caso non c'è variazione del flusso elettrico e quindi la formula finisce qua. Confrontando velocemente le quattro equazioni di Maxwell, su cui poi ritorneremo più avanti, per adesso diciamo solo che si riconoscono le sorgenti e i loro effetti, cioè i campi. Infatti le due sorgenti del campo elettrico sono le cariche e le variazioni di flusso magnetico. Le cariche causano, anzi generano, campi elettrici che fluiscono, quindi fanno un flusso, le cui linee fanno un flusso attraverso le superfici chiuse, mentre invece le variazioni di flusso magnetico fanno campi rotazionali, cioè che hanno una circuitazione, cioè hanno delle linee chiuse. Invece le due sorgenti del campo induzione magnetica le troviamo nella stessa equazione e sono la corrente di conduzione normale e la corrente di spostamento, che in pratica è la variazione del flusso elettrico. Entrambe queste sorgenti generano campi B dalle linee circolari, cioè generano campi B che hanno una circuitazione.